Ciao appassionati fan di Azzurra! Abbiamo alcune notizie entusiasmanti sul mercato dei trasferimenti. Il club punta sul talentuoso attaccante spagnolo Jeremi Pino del Villareal. In questo video esploreremo le abilità e le caratteristiche di questo giocatore di grande talento, oltre a discutere di come potrebbe essere un possibile sostituto di Lozzano, che ha suscitato l'interesse dei club arabi. Premi già il pulsante Mi Piace se sei napoletano nel cuore. Jeremi Pino è un'ala di 21 anni nota per la sua velocità e abilità uno contro uno. Vanta una tecnica di dribbling elegante ed efficace, oltre a un tiro potente con il piede destro. La sua versatilità gli permette anche di giocare sulla fascia opposta e come trequartista. Queste caratteristiche lo hanno fatto paragonare al talentuoso Ferran Torres. Il Napoli ha seguito da vicino la prestazione di Pino, puntando forse a sostituire Lozzano, che nelle ultime ore sta ricevendo proposte da club arabi. Con il contratto del giocatore messicano in scadenza, c'è la possibilità che se ne vada durante questa finestra di mercato, se dovesse essere presentata un'offerta adeguata. Il club napoletano potrebbe indirizzare quelle risorse per investire in un sostituto, come il promettente esterno spagnolo del Villareal. È importante sottolineare che Pino fa già parte stabilmente della squadra spagnola Under 21, il che dimostra il suo potenziale e il suo talento e riconosciuto nel suo paese di origine. Il possibile acquisto di Jeremi Pino da parte del Napoli porta emozione ai tifosi. Con la sua velocità, abilità e versatilità, sarebbe una degna aggiunta alla nostra squadra. L'opportunità di sostituire Lozzano, qualora si concretizzasse il suo addio, potrebbe permettere al club di investire su questo giovane talento spagnolo. Continueremo a monitorare da vicino le trattative e gli aggiornamenti sui Jeremi Pino e altre mosse nel calciomercato del Napoli. Assicurati di iscriverti al nostro canale per ricevere tutte le notizie aggiornate sul club. Forza Napoli sempre!